Tu dicevi studi cinema? Sì Dove? A scuola di cinematografia Roberto Rossellino A Roma? Sì A Cinecittà, no? No, a Garbatello E quindi dove sei qui? In che senso, dove sono? Certo, diciamo dove siamo Ah, il Festival del Cinema di Roma, l'auditorium, il mio parco della musica Perché sei venuta? Per Thomas Millian e non so se è confermato per Julianne Moore Julianne Moore, che è un'attrice E che ha fatto Julianne Moore, ricordaci? Ha fatto Hunger Games Ah, ah E principalmente Hunger Games Non Lawrence, come si chiama quella Lawrence? No, non viene quest'anno purtroppo L'anno scorso è venuta? L'anno scorso sì Hai saputo che hanno rubato le foto? Sì L'hai viste? L'hai viste te? Stanno da tutte le parti Ah, non si possono vedere No, infatti sono di che Senti, ma che cosa studi tu? Cinematografia, cioè? Storia del cinema? Sì, però più che altro sto anche nel ramo della fotografia Mi sto specializzando nel ramo della fotografia Ma comunque abbiamo una materia che ci fa studiare anche la storia Cioè il linguaggio cinematografico, diciamo Ma questa è una università o che cosa? No, no, è istituto professionale Ah, istituto professionale? Sì, sì, finisco in quinto Per il cinema? Sì, sì Che anno stai? Terzo purtroppo Cioè dovresti essere in quinto Questa è piccola? No, no, ho 18 anni Ah, ho 18 anni O c'hai 3-4 volte? No, una volta per sbaglio però Per sbaglio? No, una volta per sbaglio non so se stai io La prima volta stai io Beh, ok Che c'hai in mano? Una macchinetta, la mia piccolina La bambina? Sì, dentro c'è un'altra Però non la posso dire affatto Ok Accompagnata qui da Alessia Alex femminile Alessia? Alessia No, Alex di No, magari Io purtroppo faccio No, purtroppo, dai Faccio orgogliosamente La scuola alberghiera La scuola alberghiera Però Adoro il cinema Adoro il cinema Adoro il cinema Mi sa più di me Steli Kubrick soprattutto Esattamente Il maestro Il maestro Ma come si chiama questo? No, a me non mi fa di più No, a me non mi fa di più